Stai ascoltando la puntata numero 1 del programma Vincere con la Mente, un podcast dedicato agli sportivi che vogliono aumentare le loro performance sportive imparando ad allenare anche la mente. In questa puntata usa un dialogo interno motivante e positivo. Buon ascolto! Sapevi che la tua capacità di ottenere performance sportive di un certo livello è fortemente condizionata dal tuo dialogo interno? Ti sei mai fermato ad ascoltare cosa ti dici prima di una partita, oppure prima di una gara, o anche prima di un evento sportivo importante? Mi è capitato spesso di parlare con sportivi di ogni genere ed ogni volta ho fatto loro queste due domande. La loro reazione emotiva mi ha detto tutto, meglio ancora, il loro sguardo con gli occhi spalancati mi hanno assolutamente detto tutto, come se avessi detto loro qualcosa di molto strano, chissà che cosa poi. Eppure, qualsiasi atleta e qualsiasi sportivo di questo mondo si parla. Ah, e tu? Che cosa ti dici quando stai per entrare in campo, oppure quando stai per approcciare la tua nuova gara? Ricordo che quando insegnavo a scuola ho avuto la possibilità di rivolgere questa domanda anche a molti ragazzi che praticavano sport di vario genere. L'ho poi rivolta anche ad alcuni amici di mio figlio che all'epoca, mio figlio Sebastian per esattezza, che all'epoca giocava a calcio e naturalmente anche ad altre persone incontrate in contesti diversi, nelle formazioni che facevo, negli eventi, nei seminari, nelle conferenze che tenevo in giro per l'Italia e anche naturalmente allo stesso Seba. Dalle risposte che mi hanno dato la maggior parte di loro ho avuto la conferma del dialogo interno negativo di molti giovani atleti e anche qualche atleta un pochino più maturo, mettiamola così, è anche importante, ma siccome il campione analizzato non mi bastava ho alzato il tiro ed ho rivolto la stessa domanda ad atleti di diversi sport, tennis, nuoto, atletica leggera, basket, palla a mano, hockey su pista, eccetera. Ho monitorato le risposte di giovani e meno giovani, gli sportivi dilettanti e di personaggi già un po' più noti e mi sono divertito a fare una sorta di van de meckum delle loro risposte. Oggi non mi sento bene, ho paura di sbagliare, speriamo che i miei compagni non mi passino troppo spesso la palla, un giocatore di calcio dilettante. Che strano, ho la mano che mi trema, speriamo di colpire la pallina, un giovane tennista. Lui è più veloce di me, chissà quanti metri mi darà, un ragazzo che correva all'epoca nei 400 metri. All'anima come sono alte, e chi ce la fa a prendergli la palla? Una ragazza che giocava basket. Ogni volta che sono su questo campo gioco male, un giocatore di calcio un po' meno dilettante. Non mi sento sicuro, ho la sensazione di sbagliare, un giocatore di palla a mano. L'altro giorno ero più veloce, oggi mi sento grassa e pesante. Una ragazzina che giocava all'occhio su pista e che non era particolarmente grassa, anzi. Ho paura di sbagliare, mio figlio Seba. Quando l'acqua è così fredda non riesco a nuotare bene, una giovanissima promessa del nuoto. Mi sento gli occhi puntati ad osso, nuovamente mio figlio. Quando la colpisco in quel modo la butto sempre lontana dalla buca, riferendosi alla pallina, un signore di una certa età che giocava golf da molti anni e anche a discreti livelli. Potrei continuare sia domani mattina e scrivere un libro solo sulle frasi che molti sportivi si dicono prima di cominciare a giocare, oppure prima di cominciare la loro performance sportiva. Nota che le frasi di molti sportivi famosi sono identiche a quelle delle persone comuni che ho intervistato. Si dicono le stesse cose. Magari cambia una parola, cambia un termine, ma il risultato è sempre lo stesso, un dialogo interno negativo che inevitabilmente condiziona la loro prestazione sportiva. Molti allenatori non riescono a capire come mai l'atleta X o l'atleta Y, pur essendosi allenato tutta la settimana in maniera fantastica ed abbia quindi fatto una preparazione atletico-tattica ottimale, che il giorno della gara o della partita sparisce dal campo o arriva ultimo. La domanda che ogni buon allenatore e atleta dovrebbe porsi è perché accade questo? La risposta è semplice e al tempo stesso disarmante, perché molti sportivi hanno un dialogo interno, in altre parole quello che si dicono a se stessi, negativo e limitante. Anziché motivarsi, sanno solo porsi dei limiti da soli. Anche tu? Anche tu dici certe cose a te stessa o a te stesso? Ricorda che il tuo cervello è un sistema binario e quindi parole e pensieri influenzano le tue performance, sia nello sport sia nella vita quotidiana in genere. Più usi un certo dialogo interno negativo e limitante, più il tuo inconscio finisce per crederci e ti guida proprio verso quello che ti sei detto e che, paradossalmente, temevi. Temevi si avverasse e puntualmente si avvera. Posso dirti una cosa? Sei tu, con il tuo dialogo interno che hai creato i presupposti perché prendessero forma le tue paure. Allora comincia subito a modificare il tuo dialogo interno. Dalla prossima partita o dalla prossima gara sostituisci le parole limitanti che ti dici con parole potenzianti. Vuoi degli esempi? Ho sostituito alcune frasi limitanti che ho riportato prima con delle frasi potenzianti. Oggi non mi sento bene, ho paura di sbagliare, speriamo che i miei compagni non mi passino troppo spesso la palla. Tu falla diventare così. Oggi mi sento veramente bene. Ogni palla che i miei compagni mi passeranno sarà un pallone giocato bene. Che strano, ho la mano che mi trema, speriamo di colpire la pallina. Tu falla diventare in questo modo. Ho la mano ferma e sento la racchetta colpire bene la pallina. Ed ancora, lui è più veloce di me, chissà quanti metri mi darà. Falla diventare. Anche se lui è più veloce, gli darò filo da torcere. All'anima come sono alte. E chi ce la fa a prendergli la palla? Tu falla diventare. Più sono alte e più mi diverto a togliere loro la palla. Infine, ogni volta che sono su questo campo giocomale, tu fai diventare questa frase. Questo campo mi piace, mi sento in perfetta sintonia e mi aiuterà a giocare una bellissima partita. Lo senti come sono cambiate le frasi, come sono diventate motivanti, come sono diventate potenzianti. Adesso tu fai una cosa molto semplice. Completa l'esercizio. Fallo con le altre frasi limitanti e poi, se tu vuoi, lasciami un commento questo podcast che stai ascoltando. Segnati queste frasi. Non mi sento sicuro, ho la sensazione di sbagliare. L'altro giorno ero più veloce, oggi mi sento grassa e pesante. Ho paura di sbagliare. Quando l'acqua è così fredda, non riesco a nuotare bene. Mi sento gli occhi puntati addosso. Quando la colpisco in quel modo, la butto sempre lontano. L'unico modo che anche tu hai per apprendere le metodiche di allenamento mentale, pertanto in questo specifico caso migliorare il tuo dialogo interno, è quello di esercitarti tantissime volte, spesso e con costanza. La parola magica più bella del mondo. Il nome di donna più bella del mondo. Costanza, appunto. Dunque, prendi carta e penna e fai l'esercizio, senza rimandarlo domani. So per esperienza diretta, faccio il coach da tantissimi anni, che la stragrande maggioranza delle persone si blocca prima, si ferma proprio lì, quando devono prendere e fare degli esercizi pratici. Ma l'allenamento mentale non lo imparerai mai leggendo solamente un libro, oppure anche ascoltando un podcast audio come questo, oppure guardando anche un video. No, per imparare, per apprendere le metodiche di allenamento mentale, devi esercitarti. Dunque, spazio agli esercizi. Prendi carta e penna e fai l'esercizio. Io sono Giancarlo Fornai, un coach, un formatore motivazionale. In rete sono conosciuto come il coach delle donne per la mia grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile. Sono anche l'autore di Come allenare la mente a vincere nello sport. Un libro che solo su Amazon ha ricevuto ben 21 recensioni a 5 stelle. Trovi il libro nella doppia versione, ebook e cartaceo, e all'interno del libro c'è anche una sorpresa fantastica, poter ricevere poi un regalo da parte mia. Il libro chiaramente lo trovi su Amazon, il giardino dei libri, e tutti gli store online, oppure puoi anche riceverlo ordinandolo presso la tua libreria sotto casa. Vieni a trovare sul mio blog, il blog è dedicato all'allenamento mentale, come allenare la mente a vincere.blogspot.it, oppure se preferisci su Facebook, Giancarlo Fornai, naturalmente. E se hai una domanda, scrivimi a info-giancarlofornai.com. Risponderò anche a te, sempre e personalmente. Un abbraccio.